Il presidente del Teramo Luciano Campitelli ed il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe potrebbero saltare gli interrogatori con Stefano Palazzi. La tempistica ristretta all'enorme mole di documenti arrivata negli ultimi giorni sul tavolo del numero uno della Procura federale potrebbero rendere credibile questo scenario. Palazzi potrebbe infatti anche decidere di avvalersi solo delle carte arrivate dalla Procura di Catanzaro e andare così avanti. Il legale della società biancorossa Edoardo Chiacchio prosegue nel suo lavoro contando di poter dimostrare l'estranità del numero uno del team aprutino nella presunta combin della gara Savona-Teramo. Resta ferma poi l'intenzione della difesa di Campitelli rappresentata dall'avvocato Renato Borsone di spostare il procedimento dalla Calabria alla Liguria. In attesa di vedere quello che potrà accadere nei prossimi giorni con l'inchiesta della Procura catanzarese, la società biancorossa è al lavoro in vista della prossima stagione. Dopo aver formalizzato l'iscrizione al campionato di Serie B, aver programmato il ritiro a Rivi Sondoli e chiuso l'acquisto del centrocampista Bartolomei, è arrivato infatti nelle ultime ore il rinnovo del contratto del centrocampista Stefano Amadio, che resterà in biancorosso fino al 30 giugno del 2017. Nei prossimi giorni la società dovrà poi valutare anche la posizione degli altri giocatori in scadenza di contratto come Tonti, Caidi, Masullo, Di Matteo e Bucchi. Per Donnarumma, tornato al Pescara per fine prestito, fioccano intanto le richieste. L'ultima in ordine di tempo è quella della Salernitana, ma la società biancorossa punta al rinnovo del prestito.